Un compleanno memorabile per Hilary Duff, attrice e cantante americana che ha fatto innamorare tutti negli anni 2000. Oggi ritorna in pista, e, stato un personaggio molto seguito agli inizi del nuovo millennio ed anche gli adolescenti italiani ne sono rimasti colpiti. Stiamo parlando di Lizzie MC Guire, la popolare teenager americana interpretata proprio dalla Duff. Alle prese con problemi sentimentali e di popolarità, Lizzie è stata un'icona per milioni e milioni di adolescenti americani e non ed oggi l'attrice ha in serbo una nuova sorpresa per i suoi fan. Popolarissima negli Stati Uniti, l'attrice interprete di Lizzie ha poi cambiato rotta diventando una vera e propria pop star americana. La giovane oggi compie 34 anni e non ha mai dimenticato la sua grande passione per il cinema ed è stata infatti protagonista di serie e film apprezzati anche nel bel paese. In molti l'hanno vista apparire nella serie Low End Order, Ghost Whisperer e Due Uomini e Mezzo. I più giovani invece l'hanno apprezzata nel film Cinderella Story dove la Duff ha potuto mostrare tutto il suo talento. Oggi l'attrice è anche mamma dei suoi splendidi figli e la sua carriera è ancora tutta da scrivere. Il nuovo progetto è sorprendente, anche se non particolarmente nota in Italia per le sue doti musicali, l'attrice Ilari ha riscontrato molto successo in America almeno nei primi anni del 2000. Dopo aver interpretato Lizzie MC Guire, le case discografiche hanno fatto a gara per averla assicurandole successo e notorietà. Nel corso degli anni la giovane ha sempre cercato di portare avanti le sue due grandi passioni, cinema e musica. Oggi festeggia il suo compleanno alla grande. Presto però ritornerà in tv con uno spin-off da non perdere. Chi non ha mai visto un episodio di How We Met Your Mother? L'attrice sarà protagonista del sequel a How We Met Your Father ma al momento non si conoscono ulteriori informazioni. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Grazie a tutti. Grazie a tutti.